Assolutamente figli, eccomi! Da questa parte! Allora, ci scoppiamo verso il mercatino della agricoltura! Sì, 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 così portiamo un po' di gente da questa parte! Allora, prima abbiamo parlato degli staccati, abbiamo parlato dei colmani, delle cacce, delle gioie, della frucca, dei bari! E adesso ne preghiamo il nostro giro, Francesco, da dove l'avevamo lasciato! Sì, tanto vogliamo avvisarti, Laura, che sta per aprire... Cosa? ...l'ostenne, che è pronomico! Perfetto! Perché da tanto, che sarebbe da mangiare la famosa ragazza di Campodoro! Hai capito, come la fate qui a Campodoro? Eh, è una ricetta particolare qui della cottura che non voglio non spiegare! Ah, è un segreto! Un segreto, sì! No, 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 no! Chi è che ti parla? Ciao, il marito mi ritrovo e ciao, ok? Allora, Sanzo, raccontaci cosa fate e di dove siete. Noi stiamo in San Tupano, 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 in San Tupano. Io Guare, di San Tupano, in 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 San Tupano. Io Guare, del county, del DUI, delle Camino. Sono sollevano. Io Guare, del 19ERay, del 19 system, in San Tupano e unerezi, non temos aboi con desi. Qui ti il mentre, dove sei� Scot. ecco Grazie a tutti. 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 , a tutti. 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 a tutti.